Ciao amici, digiuno sì o digiuno no? Oggi chiarirò come organizzare un digiuno alla portata di tutti, il digiuno intermittente che è la soluzione più pratica ed efficace. Ma come digiuno non sono in punizione? In realtà il digiuno è un regalo che facciamo al corpo e alla mente. Negli ultimi anni il digiuno è entrato molto in voga nei programmi detox, ma non solo, è utilizzato anche come depurativo di mente e spirito. Se volete sapere quali sono le forme di digiuno intermittente mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace e tanti nuovi video. Vediamo prima i vantaggi, il digiuno intermittente porta benefici come anti-age, neuroprotezione, rinforzo del sistema immunitario e ovviamente perdita di peso. Ma quello che dici è scientifico? Certo, come sempre. Quando il corpo è privato del cibo cerca spontaneamente dei modi per mantenersi in forza, tenere alto il metabolismo e resistere il più possibile. In altre parole, la tiroide funziona meglio, si abbassano le probabilità di ipertensione, il metabolismo diventa più efficace perché colesterolo e glicemia vengono ridotti, l'intestino si libera meglio e depurandosi il sistema immunitario si rinforza, le cellule sopportano di più lo stress ossidativo, i muscoli si rinnovano. Avete sentito? In alcuni momenti dell'anno è davvero utile, ma a patto di essere equilibrati senza farsi prendere la mano. I principali metodi di digiuno intermittente sono 16-8, digiunare per 16 ore di seguito e mangiare nelle 8 ore successive, da fare 2 giorni alla settimana. Nelle 8 ore di cibo eliminare gli zuccheri, pane, pizza, pizzette, grassi e animali. Preferire cibi con fibre come cereali, legumi, frutta fresca e verdura. Eat, stop, eat. 24 ore di digiuno per 2 giorni alla settimana. Si cena, poi si inizia il digiuno fino alla cena del giorno dopo, bevendo acqua. Poi si assume cibo regolarmente nelle 48 ore successive preferendo una dieta sana e naturale con pochi zuccheri. Warrior diet, la dieta del guerriero. Dicono che sia un po' commerciale, comunque consiglia di digiunare per 16-20 ore, quelle lavorative e riprendere a mangiare di sera a cena. Non proprio warrior, visto che sono ammessi frutta, yogurt ed estratti. Questa dieta intermittente ha fatto breccia soprattutto nel mondo dello sport, anche se un po' criticata da nutrizionisti e dietologi. Il mio consiglio rimane quello di farsi seguire sempre e comunque da un esperto, da una persona qualificata. Col cibo non si scherza mai, o quasi. Ciao Simo, vieni a pranzo da me? Sì, volentieri. Cosa mi prepari di buono? Due bicchieri d'acqua? E tante risate! Per seguire gli altri miei consigli di salute naturale, iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Comunque, se YouTube non vi avvisa, andate a vedere sulla home del mio canale, perché ogni giorno pubblico video che potrebbero esservi utili. Mangia sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!